Ah, quindi al Black Friday, quanto non mi va di fare cose per forza, mi hanno detto che per essere un bravo youtuber dovrei fare l'unboxing dei prodotti acquistati durante il Black Friday che poi ho pure un problema non indifferente con gli unboxing, non riesco ad accumulare i pacchi e aspettare per aprirli tutti insieme quindi vi beccate sto video unboxing coi salti temporali li ho già aperti tutti, ma voi lo vedete tra un secondo, cioè sto unboxing è veramente un disastro di questo non frega niente a nessuno, è semplicemente un hub USB-C che devo utilizzare per collegare vari accessori USB al Mac perché appunto il Mac ha soltanto due porte USB-C e questo è il classico hub che tutti conoscono c'è un'altra USB-C, lettore di schede, microSD, ethernet, 3 USB e l'HDMI ok, ma quello che ci interessa sta qua dentro ok, cosa c'è qua dentro? beh, io lo so, se mi seguite su Instagram questo è proprio il pacco che stavo aspettando da ormai un mese beh, è quasi un mese ed è proprio il motivo per il quale questo unboxing ha ritardato ad uscire ovviamente è una collaborazione come vi ho fatto intendere su Instagram vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', signori e signori ecco a voi il mio primo iPad di tutta la vita iPad Air in colorazione verde l'aspettavo nera in realtà ok dai, a questo punto allora unboxiamo direi che è arrivato il momento io ovviamente ringrazio ancora tantissimo Trip Photoshop per aver creduto in un progetto che ho e che tra poco scoprirete anche voi mi serviva questo iPad, mi serviva per portare avanti questo progetto e veramente non vedo l'ora di riuscire a concretizzarlo ci saranno veramente tantissimi video su di lui odio le scatole sotto voto di Apple ok, vediamo un po', eccoci qua, eccoci qua credo che questo verdino dovrebbe essere uguale al verdino dell'iPhone 12 mini che ho portato qua sul canale che in realtà mi piaceva certo, il nero sabina meglio, eh, chiaramente però, dai, va bene anche il verde comunque, qua dentro alla scatola dovremmo avere cavetto, caricatore, visto che ancora c'erano i caricatori e gli adesivi bianchi, non verdi, peccato ci spero sempre, ma niente ogni volta gli adesivi sono bianchi quindi mettiamo a posto adesso questa scatola e facciamo un bel primo piano a questo iPad ok, eccoci qua, siamo pronti ah, et voilà allora, feedback su questo verdino in realtà non è affatto male molto delicato forse meglio del solito colore nero o argento scontati, eh dai, wow, molto molto bello come detto all'inizio è il primo iPad della mia vita io non ho mai avuto un iPad prima d'ora perché l'ho sempre ritenuto un prodotto un pochettino inutile ecco, però questo progetto che ho in mente di portare avanti servirà proprio a ricredermi ovviamente grazie ancora a Trip Photoshop per aver creduto in questo mio progetto a brevissimo saprete tutto anche voi e dai, io non vedrò di metterlo in funzione magari ci vediamo a fine video con qualche prima impressione ecco, te lo direi vabbè, pure oggi poi viva la testatura professionale ovviamente la Sony è qua stiamo registrando tutto con l'iPhone ma vai, apriamo sto pacchettino ma probabilmente per voi sarà il secondo pacco che vedrete in questo unboxing mentre per me è il primo perché in realtà è il primo prodotto che vedrete voi più interessante di questo vabbè, non fate video non fate di youtuber perché è uno stress incredibile comunque, come detto a me di aspettare non me va quindi io so che ai fini del video è più interessante mostrarvi subito il primo prodotto così insomma vi faccio anche il pippone sul perché l'ho preso come bam 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 però questo è arrivato per primo io non voglio aspettare quindi lo apro adesso e poi per fortuna c'è il montaggio e posso far un po' come mi pare ho messo qualche spoiler su Instagram di questo prodottino se non mi seguite mi raccomando seguitemi e... ammazza che è proprio... tristezza e... voilà eccola qui Apple Pencil di seconda generazione e... sì ovviamente per l'iPad eccola qua quindi comunque unboxare i prodotti Apple fa sempre un certo effetto ecco qui via questa plastichina ed ecco qua la nostra Pencil che io non so nemmeno come si apre perché non ne ho mai vista una prima di persona cioè vista sì ma non l'ho mai praticamente toccata con mano perché oggettivamente non mi è mai servita ovviamente la sto aprendo al contrario da buon Unboxer fallito Designed by Apple in California perfetto qua dentro non credo ci siano gli adesivi credo proprio di... no ok vabbè tutti i libretti e... roba inutile ok eccola la penna ammazza se pesa pesicchia pesicchia un bel po' luoghettino qui Apple Pencil molto carino andiamo ad aprircela e voilà molto molto bella e ovviamente la sfrutterò con il mio nuovo iPad che poi a voi sembra tutto bello tutto semplice ma adesso io sto impazzendo perché la Apple Pencil è arrivata ma l'iPad per la vera linea temporale ancora no e adesso con questa che ci faccio? cioè fermi tutti nella Apple Pencil non ci stanno le punte di ricambio e ditemi che sta sbagliando tutto nella vita questa ripresa comunque è fatta con la nuova grandangolare di iPhone 13 Pro così capite un attimino anche quanto è migliorata ma porca miseria le punte le punte della Pencil praticamente è arrivato e ha buttato tutto per terra mi sembra giusto grande zio numero uno vabbè ammazza cover proprio così dell'iPad ma senza scatola senza niente vabbè già spoiler vabbè dai vediamocela un pochettino meglio Amazon male 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 cioè veramente io un pacco del genere da te proprio non me l'aspettavo anzi nemmeno al pacco se è così senza niente veramente assurdo ovviamente questa qua si apre qui ci andrà l'iPad che ovviamente per il bello dei salti temporali non mi è ancora arrivato e vabbè questa è la cover sembra fatta abbastanza bene sicone classico foro per la fotocamera qua dietro vabbè dai ci sta carina come prima cover può andar bene sicuramente ne arriverà anche un originale vediamo qualcosina di Logitech se ne va e io ritiro l'ultimo pacco di oggi allora questo arriva da Warehouse c'è il bollino Warehouse io voglio il bollino Warehouse perché non c'è il bollino Warehouse vabbè allora adesso andiamo al volo ad aprircelo nel frattempo io stavo poi registrando un video che voi avete già visto è un video su come utilizzare Instagram da Apple Watch quindi veramente una figata quindi vi consiglio di recuperarlo allora eccoci qua come vedete c'è tutto l'ambaradam camera mia è diventato un disastro ma non vi preoccupate perché adesso ci apriamo il nostro pacchettino allora ve l'ho detto stavo registrando un video anzi editando un video quindi togliamo il Mac di torno ce lo appoggiamo qua e fammi vedere se così si vede qualcosina abbassiamo appena appena ok eccoci qua con l'ultimo pacchettino di oggi taglierino ovviamente non c'è il bollino warehouse questo è un prodotto in realtà di Amazon warehouse ma boh non so perché non c'è il bollino vabbè amen magari è un buon segno magari hanno sbagliato magari non è veramente warehouse boh comunque io so cosa c'è qua dentro e dovreste saperlo anche voi se mi seguiste su Instagram ovviamente il nickname è sempre il solito allora andiamo ad aprirci il tutto mamma mia ah no ok il bollino warehouse c'è sta qua sul prodottino non vedevo l'ora non vedevo l'ora che bello e eccolo qua Amazon warehouse perfetto ed è il nuovo Sigma 16 mm f1.4 per la mia Sony Alpha 6400 non vedevo l'ora di aprirlo ecco qua eccolo qua andiamo sembra una scatola delle uova eccolo qui e vabbè non c'è niente dentro quindi soltanto obiettivo e librettini quindi direi di non perdere altro tempo e eh eh ammazza che bestia che è eh non me l'aspettavo così grande allora ovviamente essendo un prodotto warehouse adesso dobbiamo subito andare a spulciarcelo eh però raga vi dico che già così sembra veramente veramente perfetto cioè non capisco la gente come faccia ancora non fidarsi ad acquistare su warehouse i prodotti sono praticamente nuovi assurdo vediamo se qua c'è qualche botta o qualcosa comunque il paralente è possibile insomma che si becchi qualche botta ma assolutamente no vediamo se se si attacca eh ok allora ok si va perfetto eccolo qua cioè raga è veramente una bella bestia quindi direi di montarcelo magari anche al volo sulla sony proprio una cosa super fast eccola qua questa è la mia alfa 6400 con il 16mm oddio si che bello quanto è grandangolare ragazzi quanto cavolo è grandangolare quanto cavolo è bella questa macchina con questa lente così sopra che spettacolo wow 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 e vabbè quanto l'ho pagato costa 450 euro e l'ho pagato 320 ma è nuovo perciò tanta roba sono super contento io spero che questo unboxing con i vari salti temporali vi sia piaciuto questa dunque è la configurazione finale il nostro nuovo compagno di viaggio ipad air 64 giga colorazione verde la apple pencil e questa cover veramente oscena presa su amazon che ovviamente verrà a brevissimo rimpiazzata o con una logitech con un originale sta per arrivare il natale magari qualcuno me la regala chi lo sa vedremo sono molto contento grazie ancora a tripotoshop per avermi inviato questo ipad e lo vedrete in parecchi video da qui in avanti state pronti perché il 2022 porterà tanti video su questo ipad tante nuove rubriche anzi due maggiormente ma insomma non voglio darvi troppi spoiler i link per acquistare tutti questi prodotti li trovate in descrizione compreso questo gioiellino by tripotoshop e beh che altro dirvi ragazzi io vi auguro buone feste perché sono veramente imminenti io sono Luca Crocco e noi ci rivediamo sempre qui al più presto sul mio canale youtube ciao grazie a tutti